Dopo l'interrogazione del consigliere comunale Oscar Aiello, anche la seconda commissione consigliere permanente ha effettuato un sopralluogo all'interno della Villa Cordova. L'attenzione, oltre al verde e all'area giochi, bisognosi di manutenzione è stata rivolta in particolare verso i servizi igienici e le condizioni in cui versano, chiedendo un intervento da parte dell'amministrazione per renderli nuovamente utilizzabili dalla cittadinanza ed eliminare eventuali pericoli e disagi. Per tale motivo la commissione predisporrà un documento. Abbiamo constatato lo stato di totale abbandono, lo stato infatiscente ed inaccettabile in cui versano i bagni pubblici, addirittura anche pericoloso perché ci sono delle cancellate che tentano accadere, ci sono delle situazioni di pericolo, oltre ai disagi che provoca ai cittadini in termini di bisogni fisiologici. Tutto questo stiamo parlando di uno dei pochi polmoni verdi della città, il centro storico, quindi il nostro intervento tende a suggerire, a proporre all'amministrazione attiva un intervento urgente al fine di togliere il pericolo e di ridare i bagni pubblici a questo polmone verde. Inoltre mi corre l'obbligo di evidenziare una luce artificiale accesa in un periodo congiunturale dove si tende al risparmio dei consumi. Vedere questa luce accesa in un locale inagibile mi è sembrato esagerato e ritengo che sia opportuno un intervento urgente. Durante il sopralluogo abbiamo anche visto alcune parti della stessa villa, quindi tutte le aiuole, i percorsi, che necessitano di una pulizia, manutenzione. Abbiamo visto anche i giochi per bambini dove alcuni sono pericolanti, alcuni sono rotti. Tutto questo chiaramente non lo possiamo presentare dopo che siamo usciti da un periodo di Covid e quindi sperare in una rinascita anche sotto questo punto di vista. Durante il sopralluogo era presente anche il presidente dell'Associazione Pensionati Villa Cordova. La Villa Cordova non sarà l'unica a finire nell'occhio del mirino della seconda commissione consigliare, che nei prossimi giorni realizzerà ulteriori sopralluoghi in altre aree verdi cittadine. Faremo altri sopralluoghi, a cominciare dalla Villa Medeo, che è imminente per giovedì prossimo, poi andremo alla Villa Robinson, al Parco Robinson, andremo anche a Villa Monica. Cercheremo di dare la nostra presenza all'amministrazione attiva, al fine di poterci presentare al meglio in questa imminente stagione estiva.